E' ormai noto come l'intelligenza artificiale con le sue molteplici applicazioni stia interessando molti ambiti, non solo industriali, ma anche della nostra vita quotidiana. La diffusione del suo impiego sta crescendo di giorno in giorno ed è vista positivamente dal 61% degli europei. Lo scopo è di mettere in luce gli aspetti umani di fronte all'aumento enorme di tecnologia e rispetto all'intelligenza artificiale generativa e la necessità di un'etica per quanto riguarda la possibilità di controllo di questa enorme espansione della tecnica nel nostro tempo. E' indubbio che il suo utilizzo stia ottenendo grandi risultati, ma presenti anche dei rischi. Ogni ricerca scientifica può essere utile o non utile a seconda di come viene usata. In realtà la tecnologia è già stata molto utile per alcuni aspetti, è stata non facile per alcuni altri aspetti. Quindi se c'è il dominio dell'uomo lo potremo usare in maniera fruttuosa per l'umanità stessa. Se non c'è il dominio dell'uomo, beh a questo punto gli scenari che si aprono sono, almeno anche secondo i 300 scienziati che hanno firmato questo sospetto, potranno essere anche catastrofici. Il problema è che se l'uomo non interviene attraverso delle regole etiche non potrà più governare la cosa che lui stesso ha prodotto, cioè un'intelligenza che potrà essere nel tempo molto superiore a quella umana. Il tema è stato dibattuto in un incontro organizzato dal Lions Club La Spezia degli Ulivi. Perché è una tematica di grande attualità e quindi abbiamo pensato di affrontare questo tema molto sentito e molto attuale e anche da gestire. Dobbiamo imparare ad affrontare le nuove sfide della tecnologia. Grazie.